Benvenuti in Chopar. La storia degli orologi Chopar inizia nel 1860, nel villaggio francese di Sonvillier. Qui lui sulisse Chopar, artigiano orologiaio, fonda il suo laboratorio, producendo orologi da tasca di grande precisione e affidabilità che presto guadagnano una grande reputazione in Europa orientale, Russia e Scandinavia. Nel 1921, il figlio Paul-Louis Chopar trasferisce l'intera produzione a Chaux-de-Fonds, per poi spostarla a Ginevra nel 1935, così da rendere più accessibile il marchio ai clienti internazionali. Nel 1963, la terza generazione dei Chopar, rappresentata da Paul-André, è costretta a cercare un acquirente per la sua azienda. L'acquirente ideale si è rivelato essere Karl Scheifele, un orologiaio e gioielliere tedesco, che ha poi diretto insieme alla moglie Karin l'espansione internazionale del marchio per oltre 40 anni. Oggi, la famiglia Scheifele guida ancora l'azienda, coadiuvata dai loro figli. Chopar è diventata un nome di spicco nell'alta orologeria e nella gioielleria, grazie alla creatività, alla tecnica raffinata e all'eccellenza della lavorazione che caratterizzano i suoi prodotti. Oggi Chopar offre una vasta gamma di orologi, di cui molti con complicazioni pregiate, tra cui il tourbillon, il calendario perpetuo, il solo tempo e il cronografo. Chopar è una maison indipendente che ha mantenuto la sua tradizione familiare ormai consolidata nel tempo, rappresentando un'ottima scelta per gli appassionati di orologeria alla ricerca di qualità, precisione ed eleganza.